Ciao amici e benvenuti ad un altro video del vostro Rock Wayne, benvenuti ad un'altra mia recensione. Come vedete amici miei, oggi vi presento questo spettacolare Hulk, direttamente dalla serie animata The Incredible Hulk, Smash and Crash. È una bellissima serie animata del 1997-98, non vorrei sbagliarmi. E per noi, specialmente italiani, significa un po' di più perché la sigla di questa meravigliosa serie animata è cantata dal mitico e amato Giorgio Vanni, che appunto è bravissimo a cantare le sigle dei cartoni animati. E naturalmente ha fatto la sigla appunto di questa serie animata di Hulk, che è diventato uno dei suoi classici e dei suoi cavalli di battaglia. Chiunque ricorda tra di noi la sigla di Hulk davvero spettacolare è, d'altro canto, una delle mie preferite. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, la Toy Beats per questa serie animata realizzò una linea di action figure davvero abbastanza grandi e molto ben fatte. E oggi, amici miei, vi presento l'Hulk base principale di questa serie di action figure della Toy Beats. E parliamo esattamente di Hulk, proprio direttamente si chiama così, Hulk. In basso, leggiamo scritto, With Crash Out Action. Quindi la particolarità è soltanto questo, ma come nome non ha un'altra definizione. Questo si chiama proprio Hulk perché appunto, come già vi ho detto, è l'Hulk principale di questa serie. Allora, vediamolo un poco più da vicino, il blister. Allora, la card vediamo anche in alto, appunto c'è scritto The Incredible Hulk. Vediamo qui il marchietto, scusate, Marvel Comics. Mi piace tantissimo questa scritta di Incredible Hulk fatta tutta a mattoni, davvero molto bella. E qua appunto vediamo il sottotitolo di questa serie animata che è Smash & Crash. E qui vediamo un'altra, forse era la casa di dove era realizzata appunto questa serie animata. Onestamente non lo so. Comunque, vediamo che qua c'è il blister. Vedete come è fatto bene. È un blister tutto, diciamo, appunto sagomato da tanti mattoni. Mi piace molto anche per questo. Davvero bellissimo. C'è una parte tutta appunto di mattoni. Guardate qua i mattoni rotti. Veramente il blister è qualcosa di spettacolare. Anche il blister è davvero bellissimo. E allora qui vediamo appunto dentro il blister, in questo nostro bellissimo Hulk. È un blister un po' particolare perché è un po' sagomato, ma a volte è proprio, diciamo, staccato proprio dalla figura. Hanno voluto fare questi tratti sagomati. Un po' particolare, non so. Qui vediamo appunto la figurina dell'azione che può fare il nostro bellissimo Hulk. Qui vediamo il marchio Toy Beats. Sul retro della card vediamo questo bellissimo primo piano allegro di Hulk. Sempre con il stesso titolo della serie animata. Qui in basso vediamo appunto il nome del personaggio in questione, Hulk. Qui una piccola scritta, se la volete leggere, se l'ho capito bene l'inglese, sono felice per voi. Qui in basso vediamo la stessa figurina del davanti di Hulk, dell'azione che fa, che in pratica spacca tutte le cose. Qui vediamo c'è una spiegazione dell'action figure. E qui vediamo la classica carrellata di action figure che la serie comprende, vedete, qua ci sono amici e nemici. Naturalmente vediamo qua due Hulk, una amica e due cattivelli. Qui vediamo una versione elettronica di Hulk, che non appartiene proprio alla serie animata, ma è una serie così a caso. Penso sia una serie fumettistica quella, comunque. Qui vediamo sempre il marchio Toy Beats, codice a barre. Ed ecco qui il nostro Hulk fuori dal suo blister. Allora, vediamolo un po' più nel dettaglio. Allora, intanto vediamolo qui da vicino, vediamo il viso. Devo dire che è abbastanza somigliante al look della serie animata. Davvero molto bello, con questi denti che li stringe così dalla rabbia. Davvero bellissimo. Davvero mi piace tanto questo viso cartunoso che gli hanno fatto a Hulk. Questa per me è una delle migliori serie animate dedicate a Hulk. E questo disegno del viso appunto che gli hanno fatto mi piace davvero troppo. Gli hanno fatto appunto i capelli di un verde un poco più scuro della pelle. Davvero bellissimo. L'hanno fatto, penso che il corpo appunto non ha nessuna pittura, perché proprio il verde di questa plastica dovrebbe essere proprio così. I pantaloni qua glieli hanno fatti appunto sul bordeaux, direi. E qui appunto c'è un pezzo della camicia bianca stracciata. Qua vediamo appunto i suoi pantaloni stracciati. Vediamo i grossi piedoni. Guardate qua tutte le venature dei muscoli. Guardate come sono fatti belli. Sul retro vediamo appunto altri muscoli. Vediamo qua le tasche. E qua tutti i pantaloni tutti qua stracciati alla fine appunto della gamba. I pugni chiusi. Davvero davvero è un bellissimo Hulk amici miei. Veramente bello. L'altezza amici miei del nostro Hulk è sui 12 centimetri e quasi e mezzo. 12 centimetri e mezzo. Più o meno. Siamo lì. E l'articolazione del nostro Hulk sono, allora, qui la testa. Non può ruotare, ma può soltanto muoversi a destra e sinistra. Può ruotare tutte le braccia. Può ruotare le braccia. Può, ha una cerniera, penso si dica così, che può fare appunto su e giù. Quindi può alzare le braccia e poi abbassarle anche lateralmente. Poi punto di snodo alle gambe, ma purtroppo questo è favorito da un gioco che fa il nostro Hulk. Appunto c'è un gimmick e quindi le gambe possono fare soltanto un quarto di giro. E l'altra gamba, appunto, come ho già detto, è un po' condizionata appunto dal gimmick. Allora. E adesso, amici miei, vediamo gli accessori che accompagnano il nostro Hulk. Allora. Mettiamo Hulk qua sul retro. Allora, vediamo che c'è questa pedana, c'è questa base, tutta in plastica. Questi piolini dovete, diciamo no, no piolini, queste colonne, queste mezze colonne rotte, le trovate smontate all'interno della confezione e li dovete voi fissare con gli appositi fori e i piolini che trovate. E' una costruzione molto facile, non ci vuole niente. Qui vediamo la parte superiore di questa base, che appunto è spezzata. E' tutto un pezzo di plastica. Qui vediamo un piolino che appunto deve essere agganciato al piede sinistro, cioè al piede della sinistra di Hulk. Quindi esattamente questo. Deve essere agganciato a questo piolino. E naturalmente questo pezzo di plastica, questa parte superiore di questa base, deve essere agganciato a qui. Come vedete c'è l'apposito piolino e un piolino e l'apposito foro, che vanno a combaciare esattamente con questa parte inferiore. Vedete? Diventa un unico pezzo, anche se un po' barcolla. Qui vediamo che c'è un altro pezzo, che è una specie, non so come chiamarla, sembrerebbe una specie di, dovrebbe rappresentare una specie di manette, di enormi manette, che il nostro Hulk spezza. Infatti qua appunto c'è l'apposito foro e qua c'è l'apposito piolino per unirli momentaneamente e poi spezzarli, farli spezzare al nostro Hulk. E qua ci sono dei ganci per farli aderire ai polsi del nostro Hulk. Ed eccovi qui amici miei il nostro Hulk montato di tutti i suoi accessori. Naturalmente amici miei sono pronti a farvi vedere il gimmick, il meccanismo che fa il nostro Hulk. Allora come avete visto la sua gamba sinistra ha un'articolazione, diciamo nell'articolazione c'è una molla. Come vedete, anche ve lo faccio vedere ad agio, come vedete c'è una molla che naturalmente scatta. Allora io amici miei questo movimento ve lo faccio vedere ad agio perché non voglio che qualche pezzo mi cade e si graffia. Io onestamente ci tengo molto a queste action figure, quindi mi dispiacerebbe se qualcosa si graffiasse. Allora ve lo faccio vedere ad agio. Allora in pratica il meccanismo dovrebbe essere questo, che pieghiamo il nostro Hulk, lo lasciamo e quindi... Vabbè dovrebbe diciamo, con la forza dovrebbe spaccare tutte le cose. Questo diciamo è il meccanismo che fa il nostro Hulk. Spero che non si sia graffiato nulla. E quindi amici miei, la recensione finisce qui. Fatemi sapere che cosa pensate di queste straordinarie action figure, di questo bellissimo Hulk della Toy Beats del 1997. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un messaggio scritto o con un mi piace. Alla prossima review amici miei e... Ma che cosa è? Alla prossima review amici.